La confagricoltura lancia l'allarme siccità. Dopo un inverno poco piovoso e le alte temperature fuori stagione, a preoccupare i coltivatori sono le riserve idriche che serviranno nei mesi estivi. Con queste variazioni climatiche il terreno non ha immagazzinato quel quantitativo di acqua necessario che poi gli servirà in seguito. Vigne e alberi da frutto sono i bersagli di questa situazione che si presenterà. Se poi pensiamo che già albicocchi e peschi stanno gemmando in questo periodo, esponendosi pericolosamente alle gelate improvvise, capiamo che il sogno degli operatori del settore non è proprio tranquillo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che quando piove, oramai non piove più come Dio comanda, le precipitazioni avvengono in modo violento per cui l'acqua scivola a valle e i terreni non riescono a immagazzinare questa riserva che poi gli riservirà per il periodo estivo. Questo purtroppo con questo non ci possiamo fare niente. Come si dice il cambiamento climatico ormai è un problema che sicuramente dovremo convivere con questo nuovo clima. Non è facile cambiare in corsa il proprio tipo di cultura, ci vuole programmazione e indovinare anticipatamente che cosa potrà essere impiantato in previsione delle precipitazioni equivale a vincere la lotteria di Capodanno. In questa ottica infatti anche con questa siccità che adesso sembra arrivare dopo anni di tante precipitazioni potrebbe essere una soluzione quella di cambiare qualcosa, di realizzare degli invasi o di ristrutturarli nel caso ci fossero per poter pensare ad intervenire in momenti di criticità con degli investimenti ad hoc, con irrigazioni a goccia, con risparmio di acqua anche nel rispetto delle risorse. Sul fronte della vigna invece se da un lato una stagione siccitosa in vigna assicura un buon prodotto dall'altro rappresenta un calo drastico delle rese per ettaro che si traduce in un minor guadagno. La riserva idrica è molto importante sia quella invernale perché si accumula e che porta avanti la pianta poi dopo chiaramente quando si alzeranno notevolmente quest'estate le temperature andranno a tingere di quella e di quello che ci verrà donato. Grazie.